Scopriamo la Puglia del professor Vincenzo Rizzi e il titolo della conferenza presentata il 28 aprile dall'Istituto Italiano di Cultura e dall'Accademia Italiana della Cucina, Delegazione di Toronto. Il professor Vincenzo Rizzi, che è il rappresentante della Delegazione di Bari dell'Accademia, ci conduce in un viaggio alla scoperta di questa magica regione, la Puglia, della sua cucina e dei suoi vini. Dicevamo che la zona centrale della Puglia è caratterizzata da un altro vitigno importantissimo, il Primitivo. Nel Primitivo troviamo in realtà due varianti, il Primitivo del Gioia del Colle e il Primitivo di Manduria. Gioia del Colle, provincia di Bari, Manduria, provincia di Taranto, sullo Ionio, sul versante ionico della provincia di Taranto. Bene, questo Primitivo è un vitigno che dà un vino molto forte, dal sapore intenso, molto vinoso e spesso dalla gradazione alcolica molto elevata, si arriva addirittura a 16-17 gradi. Questo vitigno, quindi, e questo vino che ne deriva, hanno bisogno di essere accompagnati a piatti molto forti. Per esempio, possiamo pensare a un formaggio molto stagionato. Il formaggio forse più diffuso insieme al pecorino in Puglia è il cosiddetto caciocavallo. Il caciocavallo prende questo nome dal modo in cui venivano conservati i formaggi, venivano lasciati a stagionare a coppie di due, legati da una fune e messi, appunto, attaccati a un bastone sistemato orizzontalmente, di cui caciocavallo, cioè il formaggio a cavallo del bastone, i due formaggi a cavallo del bastone. Il caciocavallo può essere di vacca, ma in particolare quello molto pregiato in Puglia è quello di vacca della razza podolica. Questa è una razza di antica origine ucraina, arrivata in Puglia, in Italia e in Puglia, durante addirittura le invasioni barbariche, quindi parliamo dell'alto medioevo, altissimo medioevo, e questa razza vive tuttora lo stato semibrado più o meno in due zone, la daunia, il gargano, c'è anche una presenza di vacche podoliche in Basilicata, che è una regione confinante con la Puglia. Il caciocavallo, che può essere stagionato da tre mesi fino a tre anni, soprattutto quando è molto stagionato, va benissimo accompagnato a un sorso di primitivo, magari anche con una fetta di pane di Altamura, DOC, Presidio Slow Food, oppure una fetta di pane di La Terza, in provincia di Taranto, che è meno noto ma altrettanto buono. Tanti piatti comunque caratterizzano questa zona centrale della Puglia che prende la provincia di Bari e la provincia di Taranto. Per esempio, un piatto che in realtà troviamo un po' in tutta la regione, come le orecchiette con le cime di rape, che tutti i pugliesi conoscono e in tutte le zone della Puglia vengono preparate, proposte, e che forse è il piatto che funge da ambasciatrice o da ambasciatore della Puglia nel mondo. Orecchiette con le cime di rape che possono essere con due versioni, o rape, acciughe e molliche di pane sfritte, o soltanto rape e acciughe. Qualcuno ci aggiunge anche un pomodorino. Oppure pensiamo ad un piatto come il calzone con la cipolla, nato come piatto quaresimale, cioè periodo che veniva preparato e consumato in periodo di quaresima, e che invece poi è diventato un piatto di tutto l'anno, non ha più una sua collocazione specifica nell'anno liturgico, quindi nel periodo dell'anno dedicato ad una determinata ricorrenza religiosa. Il calzone prevede sempre e comunque, nelle tante varianti che se ne possono trovare, la presenza degli sponsali o cipolle porraie, le cipolle lunghe. E poi cambiano gli altri ingredienti. A Bari, insieme agli sponsali, abbiamo acciughe e uva passa. Ad Altamura inseriscono il baccalà, a Molfetta inseriscono il merluzzo. Questa zona comunque è anche ricca di piatti, di carne. Abbiamo parlato prima del couturid, ma noi non dobbiamo dimenticarci, per esempio, degli numarid. Gli numarid sono involtini di interiore, o meglio, involtini fatti con il budello dell'agnello e all'interno viene inserito un pezzo di fegato di agnello e vengono cotti alla braccia. O, in alternativa, il marro, che ha una forma di polpettone, quindi o di grosso involtino, che viene riempito della cosiddetta coratella o quinto quarto, come dicono a Roma. Polmoni, ghiandole, rognoni, cuore, tutte le interiore, che non vengono buttate, ma vengono riciclate, utilizzate sempre nel criterio e nel concetto che nulla va buttato secondo il criterio della cucina povera. Tanto vero che, in alcune zone della Murgia, ma anche nella parte centrale della Puglia, viene spesso mangiata al forno o cotta sulla braccia la testina d'agnello, che altrimenti sarebbe considerata una cosiddetta frattaglia da buttare. Così come nell'Eccesa, nel Salento, e qui introduciamo la terza ed ultima parte del nostro percorso, viene tagliato, cucinato, marinato, il muso del maiale. Il criterio, in fondo, è lo stesso. La testina d'agnello, che altrimenti andrebbe buttata, viene riciclata in qualche modo e mangiata, peraltro saporitissima. Il muso del maiale, nel Salento, zone diverse, ma un unico criterio di cucina povera, che non butta nulla e recupera tutto, anche i ritagli. Il muso del maiale,